Ho deciso, mi iscrivo a matematica. Ah, e una volta che avrai finito, che lavoro pensi di fare? Una conversazione come questa, probabilmente, è andata in scena nella famiglia di tanti dei nostri studenti. E capisco perché. Non è immediato immaginare come sia il mestiere del matematico. Ma non lasciate che la preoccupazione per il lavoro freni la vostra passione per la matematica. Intanto guardate il sito di Alma Laurea. Vedrete che la quasi totalità dei matematici trova lavoro in tempi molto brevi e che a lungo termine i disoccupati rimangono poco più dell'1%. Oltre a docenza e ricerca, che comunque sono lavori bellissimi se ci siete portati, le mansioni che un matematico può svolgere nel mondo del lavoro sono svariate. Il sito mestieri dei matematici raccoglie interviste a tanti laureati italiani. Luca, ad esempio, ha costruito i software per realizzare Avatar e un'altra quarantina di film, contribuendo a vincere tre Oscar. Elena lavora per una squadra motociclistica, simula traiettoria al computer, analizza dati di telemetria, fa calcoli per ottimizzare le prestazioni delle moto e la sicurezza dei piloti. Elisa lavora nella logistica e sviluppa modelli matematici per pianificare strategie. Gli ambiti applicativi dei suoi algoritmi dipendono dai clienti della sua azienda, sono militari e civili, speciale in settore mobilità e trasporti. Elisabetta lavora nel settore della genomica e in un gruppo multidisciplinare. Nel suo lavoro dice Ma a cosa serve un matematico nella genomica o in un gran premio? Gia Galileo indicava la matematica come l'unico linguaggio in grado di descrivere l'universo fisico, ma forse non si immaginava che 400 anni dopo essa sarebbe stata applicata per affrontare un gran numero di problemi concreti, anche in ambito economico-industriale, o perfino sociale, come per comprendere il social network, o medico, come avrete sentito in questo periodo con i modelli matematici delle epidemie. Sempre più spesso non basta la matematica elementare, ma sono necessari strumenti avanzati, anche alcuni che a prima vista sembrano astratti e di mero interesse teorico. Per questo serve un matematico a gestirli. Inoltre un matematico porta in azienda anche la sua forma mentis. Marco descrive il lavoro di consulenza dicendo «Tutto si riduce a chiarire un problema, spogliarlo delle componenti inutili, individuare gli strumenti giusti». E lui è la persona giusta per farlo, perché ragiona come matematico. In alcuni brani gli intervistati si soffermano sulle capacità che hanno sviluppato studiando matematica e che trovano fondamentali nel loro lavoro. Parlano di problem solving, attenzione ai dettagli, capacità di astrazione, formamenti, s'approccio metodico e razionale, rigore, ma anche velocità di pensiero e di logica, fantasia, immaginazione, razionalità e creatività. Fiammetta elogia la sua mente elastica e reattiva e si sente pronta a mettere la sua matematicità al servizio di qualsiasi tematica. Questa è la vera ricchezza dei matematici nel mondo del lavoro. Sono ricercati non solo per le loro conoscenze, ma anche semplicemente per il loro modo di ragionare. L'istruzione e la ricerca assorbono, come vedete, solo un 40% dei nostri laureati, spesso dopo un'ulteriore specializzazione. Un altro 20% viene impiegato nel settore informatico, che è presente nei piani di studio, ma non è centrale nei programmi. L'altro 40% trova lavoro con soddisfazione in settori per cui un matematico non viene formato esplicitamente. Si tratta delle consulenze, specie come il primo impiego, di banche, assicurazioni, mondo della finanza, che fanno largo uso di modelli matematici, ma anche direttamente al settore dell'industria, che impiega un 10% dei laureati. Studiando matematica vi confronterete con concetti molto astratti, imparerete a portare avanti dei ragionamenti corretti anche soggetti difficili da immaginare, imparerete a trarre tutte le conclusioni possibili da un insieme di assunzioni iniziali e a capire se qualcuna vada rimessa in discussione. Incontrerete problemi apparentemente insormontabili, ma che guardati da un altro punto di vista diventano quasi banali. Questo stimolerà la vostra capacità di analizzare un problema, astraendo dai dettagli inutili e cogliendone l'essenza, di riconoscere similitudini e gettare ponti fra realtà apparentemente molto diverse fra di loro, talvolta di proporre suggerimenti e soluzioni innovative guardando un problema da un punto di vista diverso da quello degli esperti di quel settore. Ovviamente servirà una grande elasticità per confrontarvi col contesto in cui vi troverete via via, ma il vostro vantaggio sarà quello di essere incredibilmente versatile. Per questo sarete sempre appetibili dalle aziende in un mercato del lavoro che è in continua evoluzione. Andate sul sito curiosale e fare le interviste. Noi vi aspettiamo in subito a settembre per l'inizio dei corsi.